Nuovi strumenti per lavorare negli oratori e in settori legati alla pastorale giovanile. E' questa la proposta del Master in progettazione e gestione dei processi educativi e formativi nei contesti sociali realizzato dall'Istituto di Scienze Religiose Beato Gregorio X di Arezzo, un corso che ha registrato un bilancio positivo e che ha avuto fra i docenti il professor José Luis Moral dell'Università Pontificia Salesiana. Per quanto mi riguarda in questo Master, appunto sì che è vero che a me è toccato quello di sviluppare o concentrare l'organizzazione in temi che riguardano prima la riflessione teorica di quello che sarebbe la pastorale o la teologia pratica, poi la struttura anche teorica della riflessione sulla pastorale giovanile e sull'oratorio e poi vedere come tutte queste realtà hanno il bisogno di essere poi progettate, programmate, con processi specifici diciamo che siano in grado di generare comunità di pratica all'interno delle comunità cristiane. Per quanto riguarda il tema della teologia pastorale o pratica nella Chiesa, credo che la prima parola che ho cercato di ripetere tante volte è quella di capire capire che il punto di partenza di tutto si trova nella situazione, nella vita delle comunità cristiane e nella vita per esempio dei ragazzi per quanto riguarda la pastorale giovanile. Per così dire noi troviamo il Vangelo iniziale nel volto e nel discorre di questa situazione della vita delle comunità e dei ragazzi. E la seconda cosa che ovviamente se la situazione è il luogo teologico per noi bisognerebbe anche capire la seconda parola fondamentale che è intervenire per far convincere tutti di quell'esperienza che sta alla base di ogni cristiano. Cioè che Dio ci ha dato tutto per poter trasformare noi stessi e trasformare la vita fino a disegnare quel dono definitivo del Regno che sarà la pace, la giustizia, la solidarietà definitive di Dio nel confronto di quello che l'uomo sarà domani.